molto significativi. Tutta la prima fase è governata solo dai Vigili del Fuoco, quindi la possibilità di entrare da parte dei tecnici di ABC e dai tecnici della Protezione Civile Comunale, che comunque sono stati lì dal primo momento, può avvenire solo dopo. Adesso noi abbiamo i primi filmati, fatti direttamente e fatti anche con un mini drone, va chiarita bene una cosa ai cittadini, che vorrebbero l'acqua pulita, ma l'acqua pulita in casa uno la prende e la fa diventare sporca, perché l'acqua si usa per lavare, per fare la doccia, quindi non si può dare l'acqua pulita se non si ripristina la fogna, perciò non è, purtroppo richieste di autobotti, queste sono non ricevibili, ma ripeto, perché il problema va risolto contemporaneamente, il problema fognario e il problema acquedottistico, perché sono tutta una stessa cosa. La fogna principale sembra in buone condizioni, quindi ci sono varie ipotesi, però poi adesso diciamo a studiare il dettaglio, quindi potrebbe essere allacciamento dall'edificio privato, potrebbe essere la parte di raccolta acqua superficiale, ma insomma non è questo il momento per, anche se di questi casi in cui sono gli allacciamenti privati che hanno causato, come dire, ce ne sono stati, però non posso dire nulla su questo, ma tra l'altro non è neanche molto importante, quindi se mi conferma ABC, con cui sono in contatto stretto da stamattina, che la fogna principale è sana, si tratta di fare una piccolissima chiusura dall'accesso privato ovviamente e ripristinare la condotta dell'acqua pulita, diciamo, la tempistica ancora non sono in grado di darla, ma se confermata questa ipotesi che mi fa il direttore generale di ABC, Ingegner De Marco, con cui sono in stretto contatto, diciamo il danno, cioè l'acqua alla grande zona si potrebbe ridare non in tempi molto grandi, non sono ancora in grado di quantificare, certamente non è agli edifici interessati, poi agli edifici interessati c'è anche un problema che prima ci vuole la relazione vigili del fuoco, poi la relazione protezione civile per capire se hanno avuto danni statici, sostanzialmente sarei orientato a dire più di no che di sì, però senza, diciamo, una visione diretta delle fondazioni, eccetera, ovviamente non si può dire. Questo è lo stato al momento. Sulla viabilità? Ma la viabilità, finché non si, diciamo, sulla viabilità, anche far andare solo su una corsia a senso unico alternato, dobbiamo ben essere sicuri che il sottofondo, diciamo, è adeguato. Devo dire che ABC, sull'incrocio di mia manzone via garage, ha fatto miracoli perché ha fatto lavorare su una corsia anche quando era pienamente il foro, però questo adesso i tecnici devono andare a vedere di persone, non solo con i droni o con le telecamere. Diverse voragini in un mese. Cosa succede? Fogne con scarsa manutenzione per anni? Probabilmente è questo. Io poi voglio ricordare anche che c'è stato l'anno scorso al parco Comola Ricci, via del Cassano, che è una stata molto importante, attualmente abbiamo ancora via Consalvo, via Campegna, da poco abbiamo avuto l'incrocio via Caravaggio e via Manzoni, indubbiamente lo stato dei sottoservizi che abbiamo trovato non è buono, perché per esempio via Consalvo sembrava una piccola cosa, ma abbiamo dovuto sostituire tutta la condotta fognaria, quindi abbiamo certamente avuto uno stato non curato di questi sottoservizi. Adesso con il PNRR si stanno innanzitutto instaurando tutti i contatori dell'acqua pulita telecomandati a distanza. Questo è importante perché così si possono capire se ci sono perdite grandi, cioè anche da quello si può capire se gli acquedotti perdono, se ci sono consumi anomali. E poi con un nuovo fondo che il governo ci sta confermando, un funzionamento del PNRR molto importante che abbiamo, faremo un monitoraggio anche della rete fognaria, ma qui in gran parte a Napoli tutto è storico, anche le fogne, molte sono o borboniche o quando va bene dopo guerra, ma insomma parliamo di molte decine di anni, quindi certamente c'è da fare un lavoro molto serio e molto importante di monitoraggio e di controllo, perché poi a volte senza preavviso. Questa di via Morgan non c'era un preavviso. Assessore, sono state chiuse delle scuole soltanto per mancanza d'acqua o anche quelle perché ci sono dei rischi da valutare? No, no, diciamo tutta l'area, chiaramente essendo stata chiusa l'acqua su condotte principali c'è un'area molto vasta a cui è stata chiusa quella che io dico acqua pulita, però il tempo di fare il bypass, che ripeto non so dirvi quanto tempo ci vuole, si riapre ma non ci sono altri, è localizzato lì, diciamo, è solo lì. Ok, grazie. Assessore, tra l'ottenimento dei fondi del PNRR e l'illusso delle verifiche sulle pognature, i tempi quali che non faccio? Beh, allora, per l'acqua pulita già si stanno installando e il PNRR va a rendire contato entro fine 2026, quindi diciamo facendo accordi quadro si può partire, in realtà la gara dell'accordo quadro è già partita da BC, addirittura in anticipo rispetto al finanziamento, quindi poche settimane fa ABC ha già pubblicato questo bando di gara perché sennò diventa impossibile. Per la verifica dell'intero sistema cognario? Per il monitoraggio dell'intero sistema cognario, mentre sull'acqua pulita il finanziamento è, anzi, noi otterremo questi nuovi finanziamenti proprio perché ABC è riuscito a spendere praticamente tutta la prima parte mentre altre regioni non ci sono riuscite, quella è stata, molti in casa hanno visto che il contatore è stato cambiato, è stato cambiato perché quella è monitorata a distanza per le perdite. Fino a che non ci sarà questo monitoraggio, il rischio è dietro l'angolo in ogni strada di Nauro? Diciamo non è proprio ugualmente distribuito perché dipende da quando sono state fatte le fogne, quando, no, diciamo, nelle zone, paradossalmente nelle zone in cui ci sono le gallerie della metropolitana stanno meglio perché diciamo sono stati, quindi dipende dall'epoca in cui sono stati fatti questi questi interventi fognari, devo dire che ABC è molto rapida negli interventi, quindi però sì, diciamo. Cioè non c'è ipotesi previsionale finché non arriva il monitoraggio definitivo? Sì, la conoscenza della rete è molto importante, molto accurata, però non basta conoscere l'involucro, bisogna avere il contenuto, quindi diciamo questo lo stiamo programmando, devo dire che ABC è stata lungimirante nel chiedere finanziamenti proprio su questo.